Non ci sarebbero al momento in programma nuovi bonus economici da erogare in prossimità delle festività natalizie. Il comune nisseno però si riserva a distanziare le misure necessarie, qualora dovessero arrivare i fondi, così come spiega l'assessora alle politiche sociali Cettinanda Loro. Un aiuto economico una tanto, ma atteso però da numerose famiglie del territorio, soprattutto in vista dei giorni di festa. Rimangono intanto sempre attivi i servizi di sostegno, come ad esempio il contributo per gli affitti garantiti dalle politiche sociali. Come sostegno che c'è stato sempre, le politiche sociali hanno messo a disposizione, c'è una domandina da fare, per chiedere un aiuto economico. Ma quello c'è stato sempre, l'abbiamo sempre fatto. Al momento purtroppo, anzi chiariamo questo aspetto, mi chiedono tutti se ci sarà il bonus che abbiamo dato negli anni precedenti, soprattutto a Pasqua e a Natale degli anni del 2021. Quest'anno non abbiamo avuto nessun finanziamento da parte, sostegno alla povertà da parte del Governo centrale. Se arrivano saremmo ben lieti di darli. Le politiche sociali, lì fin dove possono, danno l'aiuto che c'è sempre stato. Aiuto, sostegno al reddito, bonus e spesa, ma sono cose che ci sono sempre state. I precedenti bonus non hanno a che vedere con quello che abbiamo adesso.